Grande successo al Teatro Brancazzo per il nuovo spettacolo di Virginia Raffaele, Samusà. Diretto dal noto regista Federico Tiezzi, lo show è scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco Frieri, Daniele Prato e Federico Tiezzi. Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale, il Luna Park. Da lì si sviluppa in quel modo unico della poliedrica artista romana di divertire ed emozionare, stupire, performare, commuovere e far ridere a crepapelle. Un vero e proprio one woman show in cui Virginia Raffaele dà prova ancora una volta della sua immensa bravura a 360 gradi. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Brancazzo fino al 15 maggio per poi proseguire la tournée nei migliori teatri italiani.